Costretti alla pausa, oggi non si gioca. O meglio, in campo ci va la Serie B, categoria che sembra lontana anni luce per quanto ci concerne, dopo le grandi emozioni vissute soprattutto negli ultimi due anni. Ci vanno anche le altre categorie minori, ma queste sono molto più distanti nei nostri pensieri e nella nostra mente, mente nella quale trovano ampio spazio gli impegni della nazionale, che ci ha molto deluso per la prestazione in Svezia. Il tracollo dell'Italia contro la Svezia trova spazio anche sui principali quotidiani sportivi stranieri. In particolar modo è la stampa spagnola a riservare i commenti più impietosi. La Svezia spinge l'Italia sull'orlo dell'abisso. I giganti della Svezia hanno smantellato la BBC Azzurra. BBC sta per Bonucci, Barzagli e Chiellini, giusto per intenderci. Nei giornali svedesi, come nella mente dei giocatori, tutti sono comunque consapevoli che ancora la Svezia non è ai mondiali e che sarà dura a San Siro. Molti titoli sulle parole di Markus Berg. A San Siro ci sarà la guerra. Titoli e pezzi anche sulla paura diffusa in Svezia, che la FIFA potrebbe preferire che si qualifichi l'Italia, superpotenza calcistica, piuttosto che la nazionale scandinava. Meno potente, con meno tifosi e meno ricca. Molti temono un arbitro che non potrà reggere la pressione di San Siro, fino a regalare un rigore generoso magari all'Italia. Per quello che può incidere, un piccolo commento di provincia, personalmente temo l'Italia, il suo assetto tattico, l'allenatore che ancora non è riuscito a dare un'identità. Alcune scelte bizzarre, esclusioni eccellenti, quella di insignia per intenderci, ma anche quelle legate a comportamenti scorretti che alla fine potrebbero essere perdonati anzitempo se si avesse un po' di buonsenso. Pelle e Balotelli potevano tornarci utili. Premesso tutto ciò, non accetto minimamente i commenti dei giocatori e dell'allenatore dell'Italia in relazione all'arbitraggio e alla durezza del gioco degli svedesi. E faccio mia una dichiarazione dell'allenatore della paternana, Sandro Poschesci. Una volta l'Italia menava e vinceva, ora si fa menare e piange. Questa è la differenza, a portare tutti gli stranieri in Italia si è finiti che non troviamo più un italiano che mena in campo. Siamo diventati tutti pariolini, rischiamo di uscire da questo mondiale per paura e se io vedessi la mia squadra che gioca impaurita me ne andrei e metterei al mio posto un altro allenatore più coraggioso, perché magari sono io che trasmetto questa paura ai giocatori. Se non andiamo al mondiale ci rimettiamo tutti, dai giornalisti a noi addetti ai lavori. Le primavere sono fatte tutte da stranieri, bisogna dire basta, perché questo è il campionato italiano non internazionale. Qui ogni settimana esce il nome di uno straniero da naturalizzare, ma andiamo a prendere i giocatori dalla serie C e dalla serie D. Diamogli una possibilità, se venerdì avesse giocato una squadra di Lega Pro contro la Svezia, avrebbe vinto perché la nazionale svedese vale una squadra di Lega Pro. Sono pienamente d'accordo su quanto detto dall'allenatore della Ternana, è mancato il carattere, sono mancati i balotelli, i pellè, speriamo di non dover subire l'umiliazione di una sconfitta, di un'esclusione dal mondiale, nessuno riuscirebbe a digerirla e noi amanti del calcio e figli di successi disperati, abituati dal cordone, ne soffriremo tanto. Torniamo ad essere italiani, tiriamo fuori gli attributi, non dimentichiamo che un mondiale in Spagna lo abbiamo vinto grazie a uno che di cognome faceva gentile, ma provate a chiederlo a Maradona, se lo era veramente. Una partita da altri tempi che merita lo spazio dovuto alle 18.30 al Cibari, oggi Massimino e di scena Catania-Catanzaro, il racconto degli ospiti nella pre-partita. La continuità, speriamo nel risultato, anche se poi andiamo a analizzare la squadra che andremo ad affrontare, ma di prestazione e non solo di prestazione ma soprattutto di mentalità, di continuare a far crescere questo tipo di mentalità che si era visto a Sprazzini, Trapani, forse già qualcosina col Matera, poi è venuto un po' a mancare, poi siamo riusciti a portarla per 90 minuti e quindi continuazione soprattutto in questo punto di vista qua. Sì, allora, noi dobbiamo correre, dobbiamo continuare a correre, è tanto, ad aggredire è tanto, sento, leggo un po' in giro, insomma, anche a livello nazionale, siamo un po' destinati come le vittime sacrificali di questa partita, ci danno già per per battuti, io dico sempre che le partite si devono giocare e noi la giocheremo nel migliore dei modi, con quella che è la nostra identità che piano piano sta crescendo, sappiamo che è una partita sulla carta proibitiva anche perché per loro hanno, sicuramente è una squadra che potrebbe fare tranquillamente la Serie B già con questo organico qua, però ti ripeto, dobbiamo correre e aggredire, continuare a fare questo e poi vediamo come finirà alla fine. Ho ancora qualche dubbio? No, io penso che per questa partita, anche perché era stato fatto un discorso chiaro ai ragazzi all'inizio di questo trittico di partite che avrei avuto bisogno di tutti, quindi un po' anche per cercare di distribuire le forze e soprattutto di tenere coinvolti tutti i ragazzi, ora chi per infortunio o chi è rientrato da poco, ma se andate a vedere più o meno ho già utilizzato quasi tutti, a parte il secondo e il terzo portiere e chi pochi spezzoni o così, ho cercato anche di puntare su questo coinvolgimento del gruppo per fargli sentire tutti protagonisti, tutti indispensabili e quindi qualcosina, per domani è già tutto chiaro su come andremo a giocare e gli uomini che scenderanno in campo, sono contento dei giovani perché da quando sono arrivato vedo che se la stanno mettendo tutte si sentono anche molto partecipi, gente che forse aveva giocato un pochettino meno oggi sta avendo la loro possibilità, sono contento anche della crescita che stanno avendo, piccola graduale ma c'è, mi è piaciuta molto la prestazione di Imperiale domenica in una partita importante di la personalità che si sta mettendo Marin, Canis, puntoriere quando è entrato, sono tante le letture che vanno fatte anche da questo punto di vista, questo significa che anche quello che ho chiesto ai giocatori un po' più esperti, chiamiamolo così, di dargli una mano sotto questo punto di vista e di non pensare solamente alla loro prestazione ma di aiutarli sta piano piano accadendo.